alcuni di voi potrebbero definirle delle semplici forbici cosa ci fanno delle forbici sul playmate ma no non sono delle semplici forbici sono le forbicine blu dell'ikea e se ci stanno le forbicine del blu dell'ikea allora ci sta un unboxing ma non di uno ma di tre box di faraonic cardia quindi hello bad guys benvenuti in questo video con una intro un pochettino più spicy e oggi apriamo tre box di faraonic guardian un box tanto ricco quanto desiderato dato che al suo interno ci sono carte bramate dai giocatori di gott ma anche di edison come per l'appunto la metamorfosi e la dust shot per quanto riguarda diciamo più gott edison ma anche tengu plant dato che sarà un video un pochettino lungo io andrò diciamo abbastanza spedito andrò ad aprire il primo box ma prima di continuare se non sei iscritto al canale benvenuto nel mio canale mi occupo di retroformat quindi da unboxing di prodotti vecchiotti e coreani come puoi vedere per l'appunto ma anche dec profile inerenti ai retroformat in particolare edison tengu plant ma anche attre allora quando riguarda faronic guardian come vi dicevo ovviamente con le nostre forbicine blu dell'ikea rigorosamente made in china che non so perché mi fa ridere perché diciamo questa espansione anche se già ve l'ho accennato è così desiderata non si trova nemmeno da nessuna parte abbiamo già la prima rara da nessuna parte perché diciamo contiene oltre a metamorfosi e dust shot abbiamo già aperto qualcuno sul canale contiene numerose carte che sono per l'appunto anche la wanku tiger don zalog la necro valle su perché è molto bella mi pare ci fosse anche il libro della vita su perché sono veramente veramente piccolo questo è sempre forte ok abbiamo già trovato due due rare a e vi ricordo come potete notare se la prima volta che guardate diciamo unboxing coreani unboxing di questo tipo faccio un reminder per sicurezza che ci sono cinque carte per per gusta a differenza del diciamo dei box nostri tcg esso e soprattutto sono anche 40 bustine nell'interno del box ovviamente io non mi ricordo i nomi diciamo di tutte le le carte anche perché sono abbastanza vecchiotte riconosco le figure ma non riesco a ricordarmi tanto i nomi quindi abbiate pazienza da quel da questo punto di vista oddio questa prima super ok che questa anche l'altra volta avuti dubbi se fosse super o meno ma è una super quindi ce la mettiamo qui allora prima di trovarle e ora che l'ho detto succederà scrivete qui sotto nei commenti quindi secondo voi quante trappola botola e o metamorfosi troverò all'interno di tre box quindi il totale provate a dirlo e boh chiazzecca gli metto il commento in evidenza o nel prossimo video glielo metto diciamo come best comment of the day come si suol dire ok abbiamo il murakuminato nel quale si chiamasse kabazar mamma mia che cartona questa che poi io ricordavo da piccolino giocavo c'è il mio primo strutture quando ho ripreso a giocare oltre diciamo quello di yuki e di kaiba che vabbè in maniera barba cosa li ho aperti da piccolo ma giustamente un bambino ma le carte eccola qui la prima dust shot signori scusate se mi sono interrotto comunque dicevo questa è anche una carta utile quindi me la metto qua reasoning anche carta utile il tipo ammazza che god pack questo c'è anche solo la metamorfosi assieme comunque dicevo che uno dei miei primi mazzi è stato il mazzo dinosauro ma non quello diciamo moderno giustamente che ero bambino all'epoca ma quello col tiranno super conduttore mamma mia che ben ricordi mamma mia che cartona era un bel 3003 che non calavi mai e poi c'era tirannosauro finale che ugualmente una ultra di cui non mi ricordo il nome e scusate poi me li vado a recuperare i nomi non vi preoccupate però diciamo per ora mi accontento di vederli poi manco me la ricordo sta carta un 2 7 altra novità importante per il canale ma prima che mi scordo anche questa è che praticamente ho aperto il mio store su card market ora devo solo cambiare di nome perché io ingenuamente avevo creato due account che non si può ovviamente scritto chiaramente sul market però volevo farne uno diciamo a uso personale e l'altro diciamo dedicato totalmente a youtube per l'appunto dove vado a vendere diciamo quelle carte in più che trovo per l'appunto nell'unboxing così da poter procurarmi altri prodotti e portarli per l'appunto sul canale per rientrare un minimo con le spese questa ce la teniamo da parte quindi il tempo di aggiustare il tutto e potrò caricarvi le carte online qual è il problema oddio questo è bello spesso quindi potrebbe esserci qualcosa di interessante il problema è che card market sembrerebbe avere un problemino ultimamente negli ultimi mesi quanto meno dato che io sto cercando di caricare le carte in coreano ma no siamo a 1 e 1 in coreano dicevo ma non me lo permette o meglio faccio metto coreano e poi me le rimette in inglese cerco l'espansione magari in coreano per l'appunto che dici ok ho sbagliato io a mettere l'espansione mi calcola solo inglese perché pharaonic guardian non è uscita in italia se non erro e quindi questo di base un altro di sti cosi brutti e niente sì lo sono un po' un bastardino come cosa quindi vediamo se riesco a risolverla in qualche altra maniera però di base troveremo una soluzione perché alcuni dicono vabbè metti ma è secret qui il glava golem attenzione mi pare che sia secret vedo male io no 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 è secret è secret ok dalla camera si vede meglio ok quindi lo mettiamo qua e la cosa che volevo fare dato che sono le carte diciamo da scommessa ne vorrei mettere un po più da parte anzi diciamo una cosa qua mettiamole su le foil qua mettiamo le rare diciamo relativamente mi interessano anche le comuni e qua ci mettiamo le carte diciamo della scommessa ok molto meglio eh si tutto in diretta senza tagge in diretta il video si ha caricato quindi ferito mi commento da solo allora ragazzoni per quanto riguarda poi quanto riguarda poi l'affilazione con shuffle deck gaming che mi avete chiesto alcuni impiegati ma quindi che succede ora che farai a parte che un po l'ho anche scritto però di base oltre gli eventi online che faccio di di solito come la dragon cup che per chi non lo sapesse è un torneo un super è il torneo diciamo gratuito del canale dedicato al time wizard nello specifico edison format vedrò se magari tengo plant a dare un altro nome però vediamo comunque però appunto faccio questi tornei gratuiti che vi ricordo di andare sui miei social nel caso che siate interessati non solo appunto a seguire gli aggiornamenti ma anche a far parte della mia community dato che il disco e sta crescendo sta crescendo bisogna dire la verità siamo arrivati a più di 30 persone che non me lo aspettavo onestamente oddio mi ha tagliato la carta no meno ma mamma mia vediamo vediamo quale carta potrei aver tagliato non è successo per fortuna ma ho sentito una resistenza sul pacco ok no stavo per tagliare quindi si poteva anche fare ma perché non lo fai diciamo che non mi piace farlo diciamo per a prescindere senso che è sempre una carta mi dispiace gettarla cioè gettarla se parla magari qualcuno la desidera queste me le metto da parte mazza quanto è brutto sto coso guarda là quello è capace che se vuoi usare quindi semplicemente con shuffle that game stavo dicendo ci saranno delle a quanto sei bella ci saranno dei tornei con diciamo il buy in non mi pare si dica in inglese in pratica si paga l'ingresso da valutare diciamo la quota di iscrizione però di base vorremmo mettere ovviamente pagando l'ingresso ci vogliamo mettere un monte premi come risultato come vincita appunto per la top o per il vincitore quello ovviamente dipende in base al numero di partecipanti io sono veramente contento di aver intrapreso questa piccola iniziativa assieme a loro dato che obiettivamente l'obiettivo comune scusate se ripeto bene o male la parola l'assonanza anzi è quello di espandere un po' la community del retroformat e di base del time wizard come si sol chiamarlo siamo un po' tutti vecchiotti diciamoci la verità quindi chi viene da goth chi magari da goth viene da edison bello il reaper viene da edison e viceversa cioè è bello anche sperimentare qualcosa di nuovo e non come per l'esempio io il formato hat non l'ho vissuto appino anzi avevo ripreso a giocare da da poco come già dicevo nel video guida che se vi interessa andate a recuperare quindi quindi nel caso andatevelo a recuperare se vi interessa hat però per l'appunto è un tipo di esperienza nuovo magari quando edison un po' non dico che stuferà quello assolutamente no però ovviamente pian piano la popolarità andrà a scendere ora diciamo ancora siamo nel periodo di fuoco di edison e caso che appunto siate interessati edison ma non sapete da dove cominciare io vi suggerisco anche di andare a vedere qui sotto in descrizione o lo metterò qui in alto la mia guida edison dedicata al formato in cui andiamo vado a spiegare un bello questo bello qui comunque dicevo vado a spiegare le basi del formato edison quali sono le carte più utilizzate il tipo di gameplay all'interno del formato perché giustamente ogni formato ha un tipo di gameplay diverso e tal proposito dato che il video durerà un po' diciamo bene o male esprimerò anche un mio parere sul gioco moderno di yuki che non vado a sminuire assolutamente no però la cosa bella dei vari formati è che hanno un approccio un pochettino diverso l'uno dall'altro di base del tipo ovviamente più andando avanti con gli anni più il gioco sarà veloce ma secondo me anche una questione di non il principio ma il fatto che il gioco si evolva cioè il gioco ovviamente cura anche un la sfince di nuvole abbiamo trovato dato che il gioco si evolve secondo me non dico che abbia snaturato il gioco assolutamente no e ha preso diciamo una via diversa diciamo alla gente la maggior parte della gente piace avere diciamo le carte op carte quindi molto forti e anche per questo che da una parte a a diciamo secondo me una superiore uno dei motivi non è assolutamente il singolo motivo per uno dei motivi per cui molta gente preferisce a al formato vegas che bene o male sono molto molto vicini e la presenza di sol charge che è una carta bella bro che la gente piace fare cose bro che ecco la traduzione siamo arrivati a tre e la wangu wangu ho notato che non si trova così tanto in questo box è una rara ma non è che la si vede così tanto ok pian piano io sto cercando di tenere concentrato la telecamera il video non so perché vado non in ansia una sorta di devo fare devo fare devo fare mi esplode il cervello e comincio a dire cose quasi a caso questo video comunque lo dovevo portare da un po come per l'appunto ve l'avevo promesso nel video della come si chiama dell'apertura della collezione leggendaria 5d che ripeto se non avete recuperato è un prodotto che vale tanto la collezione 5d ma non inteso a livello economico si vale anche un pochettino a livello economico quello assolutamente sì però diciamo per me personalmente parlando come legame affettivo vale veramente ci sono affezionato di base ci sono ci sono tanto affezionato dato che ci sono le carte diciamo più emblematiche di quel periodo perché l'era 5d è la mia preferita anche a livello di anime c'è l'anime di 5d secondo l'anime di 5d è il mio preferito in assoluto è vero che diciamo gli ami yugi è quello che bene o male ha legato tutti ha invitato quasi tutti noi player a far parte di questo gioco però diciamo per gusto personale a livello anche di di trama secondo me cioè per me 5d è quella che preferisco di base perché poi ci sono i draghi per chi non lo sapesse io sono un dragon player perché ho detto così non lo so sono un dragon player quindi poi c'è sta lo stardas casualmente guardate il mio nome youtube e carte per l'appunto che sono anche emblematiche in formato edison un po' meno l'arcidemone drago rosso secondo me ma il drago polveri di stede e il rosa nera sono molto più impattanti sul meta non sminomiare ovviamente il drago l'antico drago fatato perché secondo me è uno di quei singolo che un po' nessuno si caga però per chi non lo sapesse anche un ottimo counter di drago tu dirai ma perché manco ho detto che ce ne erano poche ne ho trovati due ottimo dice perché un ottimo counter del mazzo drago perché semplicemente il problema di drago è vero che c'ha mostri ciccioni ma non superi 3000 è difficile che lo faccia quantomeno di conseguenza di conseguenza mettere l'antico drago fatato in difesa io vi garantisco che crea una situazione di stallo enorme quindi ho giocato la versione con le borger lady che in grado diciamo di arginare quindi anche risollevarvi da questa situazione di stallo oppure è stata a guardare per un bel po' di turni garantito quindi anche per quello perché si gioca la warrior lady perché se tu giochi spirit reaper per l'appunto punto drago lo fermi cioè o giochi anche ripeto la warrior lady o giochi smashing ground diciamo delle out simili io gioco il compulsory personalmente parlando dato che giocare trip prison non è che mi piaccia tanto quanto siano ovviamente le carte molto forti in come si chiama in Edison e anche molto ricercate per l'appunto oh quattro bottle che il primo box signori quattro bottle quindi cominciamo con il secondo box di faro net guardian bene sì farò tutto in questo video quindi sono ben 120 bustine ma si può fare quella roba in cui fai vedere il box e cioè come lo tengono un po' in fumetteria no io sono incapace di di farlo a quanto pare ok quindi buttiamo tutto giù in fila così che da una parte forse più soddisfacente visto vedi guarda qua allora questi box dice come faccio a procurarmi box coreani cosa importante io ho l'affiliazione con il mio amico gianni sul jack store quindi praticamente diciamo è un po difficile una super già trovata diciamo che trovare questo box allo stato attuale è veramente difficile io nel caso ve lo linko lo stesso tramite il mio link di affiliazione tramite il quale otterrete un codice sconto del 5 per cento sul diciamo sul sull'ordine ma soprattutto contribuirete anche attraverso questo 5 per cento al al canale tramite i quali tramite il quale diciamo questo questo risparmio che voi avete non c'è alcuna commissione in più però diciamo finanziate parzialmente diciamo il mio lavoro tramite appunto il referral link quindi magari se non trovate faronic garden ci sono tante altre espansioni queste diciamo molto vecchiotta ma ci sono espansioni altrettanto valide che nel caso ve lo metto qui sotto in descrizione o scrivetemi su discord è importante che clicchiate sul link perché solo tramite il link diciamo riesco a ottenere diciamo il famoso il obiettivamente ve lo dico chiaro e tondo riesco a guadagnarci sopra altrimenti potrete potete anche utilizzare il mio coupon tranquillamente che come il nome del canale però se potete farmi questo piccolo piacere che non vi costa nulla se non un piccolo click potete aiutarmi effettivamente a crescere su youtube e rendere diciamo questo mio piccolo investimento personale nel mio in una sorta di secondo lavoro il lavoro part time che non mi dispiacerebbe diciamo è un gioco che mi piace voglio condividere la passione per il gioco e soprattutto miro a una community non tossica quello è il mio primo obiettivo perché se da gente tossica preferisco non averla proprio attorno di base quello preferisco gente che voglia divertirsi che voglia aiutare l'altro quindi anche per quello che io realizzo le guide su youtube perché mi piace aiutare mi piace aiutare per l'appunto le persone dare consigli sulle decklist anche sugli acquisti perché molti mi hanno scritto per gli acquisti io sono veramente contento quando lo fate non mi disturbate anzi mi fa veramente felice e mi dimostra un po' che il mio lavoro sta servendo a qualcosa soprattutto a qualcuno che su un fatto così di base mi piace aiutare le persone quando possono i miei limiti soprattutto per una cosa che che mi piace quindi è un po il mio modus il mio modus operandi quindi ripeto se vi interessano box coreani volete acquistarmi anche carte singole le trovate sul mio store contribuate alle carte singole o jack store direttamente per se volete appunto acquistare un box intero non costano nemmeno tanto quindi se volete anche togliervi lo sfizio come ho fatto io in passato e sto facendo qui sul canale assieme a voi quindi voglio condividere questi miei sfizi tant'è che pieno di unboxing sul mio canale approfittatene e risparmiate di base ecco quindi abbiamo parola guardian ci stanno come si chiama beginners beginners edition una cosa del genere però vabbè sul canale trovate un sacco di unboxing relativi appunto a questi altri box presenti sullo sullo store questa carta non la conosco onestamente devo andare a recuperare assolutamente per vedere cose quindi questo ragazzoni di base è questo prima invece parlavamo del gioco cioè vi accennavo a cosa ne penso magari del gioco moderno io volevo farne fare un video a parte ma mi rendo conto che richiede un pochettino di tempo perché non è proprio un discorso diciamo facile da affrontare da dire così su due piedi ma noi lo stesso diciamo lo accendiamo non so se nemmeno avrò interesse nel dirlo perché ripeto non voglio sminuire il gioco moderno mi piacciono anzi un casino gli artwork moderni di yugi ragazzoli tutto quello che volete ma sono pazzeschi e infatti per un periodo ero intenzionato a ricominciare anche con il modern però ogni volta che diciamo quella diciamo quella scintilla che mi spinge a farlo poi c'è sempre qualcosa che dice no questo perché che secondo me è la cosa importante oh l'ultra rara che ah non l'abbiamo trovato nel box di prima scherzo ultra rara attenzione perché qual è la cosa dato che obiettivamente come diciamo anche la maggior parte di voi qui sul canale abbiamo una certità abbiamo superato i vent'anni e magari qualcuno di voi come me ha cominciato a lavorare di conseguenza diciamo che si è stanchi già di suo stando appresso al lavoro piaccio meno tipo nel mio caso a me piace un casino il mio lavoro e lo faccio con piacere stanco obiettivamente perché pur sempre un lavoro quindi investi la maggior parte delle tue energie lì anche perché lì che vuole mani il pane di conseguenza quando diciamo tu torni a casa la sera pomeriggio quel che dipende sempre dal lavoro torni magari anche la mattina cerchi qualcosa di un hobby e giustamente dici oh a me da piccoli mi piaceva Yugi mi piacerebbe tornare a giocare però dall'altra parte Yugi è cambiato tantissimo nel corso degli anni e è vero che ci sono i meme sopra sul fatto che i testi siano chilometrici quindi siano dei wall of text però da una parte secondo me quella la causa principale per cui un giocatore vecchio a fatica torna a giocare a Yugi nel senso che come dicevo è stanco per il lavoro di conseguenza il mindset che bisogna avere con il nuovo Yugi con il gioco moderno si è allontanato un sacco un po' da quello che era prima bene o male dal GOT dall'Edison dal Tango che certo hanno delle micromeccaniche diverse una gestione delle risorse diverse nei vari formati però bene o male erano degli effetti molto semplici del tipo faccio l'esempio con la guida torre del mondo sotterraneo che quando questa carta viene evocata normalmente può evocare un mosto livello 3 inferiore demone dal dal mazzo che mi pare non possa essere sincrato usato come materiale sincrono questo è per farvi l'esempio oh ring of destruction questo piace il giocatore di GOT o per l'appunto il giocatore di GOT dove c'è il meme setto una setto due passo perché di base era un po' quello a cui eravamo abituati in passato vedere invece scombare un sacco che poi anche una questione di gusti per esempio a me non piace troppo e star lì a guardare il giocatore avversario fare cose o viceversa e mille cose diverse con effetti ripeto abbastanza lunghi secondo me diciamo è stancante per un giocatore vecchio che voleva semplicemente farsi una partita al suo gioco d'infanzia mettiamola così qua viene fuori la parte foil viene la parte infantile non in senso offensivo attenzione che io vabbè io sono l'esempio sto portando i video sto facendo le unboxing delle cartine delle figurine quindi e quindi con difficoltà riesci a star dietro a questo perché richiede tanto tanto tempo poi sì l'altro problema è che secondo me dal punto di vista agonistico rispetto agli altri giochi di carte poi Yugi soffre del tipo i montepremi dei tornei tutte queste cosine qui se uno vuole cimentarsi a fare il pro player che non è sbagliato ragazzoli se uno sente che la sua vocazione sia quella che lo faccia può trovare altri sbocchi lavorativi sempre inerenti all'azienda e non c'è un montepremi così sostanzioso per dire ok vale la pena gettare anima e corpo quindi secondo me da un punto di vista Konami dovrebbe investire un pochettino di più da quel punto di vista per quanto riguarda l'organizzazione di di eventi perché ripeto il gioco secondo me è una cosa personale e anche un po ripeto abbiamo una mentalità vecchia dal punto di vista e a fatica riusciamo a stare dietro a un gioco così veloce perché obiettivamente il gioco è diventato nettamente più veloce rispetto al passato quindi abbiamo mentre le partite bene o male non voglio dire che durino uguale ma in edison durano un casino le partite got non sono chissà che grande giocatore gioco molto for fun con un mio amico non ho mai fatto tornei appunto dedicati al formato però per l'appunto i turni in gioco moderno questa è stata la mia impressione anche giocando su master duel altrimenti non mi azzarderei mai a dire una cosa del genere tutto mentre apro box vecchi comunque i turni diciamo durano tantissimo quindi sono 15 minuti a turno la butto lì e sono pochi quindi danno quei 45 50 minuti a partita che bene o male sono diciamo i turni durante i tornei mentre diciamo nei formati vecchiotti mentre i formati vecchiotti è un po' diversa non ho più turni e si ce la si gestiva poi un'altra questione si lo so che mi sto più lungando in questo io però dato che sono tre box qualcosa devo pur dire o no c'è la questione parlando dei retroformat di cui sono diciamo più sono più nelle mie corde la questione che molti giocatori di edison ma in generale hanno paura un po' di provare il formato tengo perché hanno paura un po' del legend e del sincro plan del tengo plant tur tengo plant ma anche perché hanno paura delle hand trap che sono state aggiunte al gioco come il veler e il max c ma come diciamo nel video qui dal formato tengo plant che se volete andatevelo a recuperare secondo me quelle carte bilanciano il gioco lo bilanciano di gran lunga da gran lunga dato che carte come i monarchi quindi all'interno del formato edison perché chi dice che il formato edison è perfetto non ha secondo me ragione nel senso che c'ha vari difensi è molto bello è molto bello come direbbe qualcuno però lui speravo di trovarlo onestamente perché me lo volevo tenere perché volevo giocare la doppia copia in zombie così comunque dicevo il formato edison ha dei difettucci secondo me un difetto è che la gente non sfrutta appieno il formato nel senso che quando ci sono i tornei anziché diciamo volersi cimentare con una lista spicy qualcosa diciamo un po' particolare che il formato te lo permette di base il formato te lo permette la gente è un po' a paura e vuole andare sempre sul sicuro quindi di conseguenza quando vai ai tornei cos'è che vedi sempre ai tornei? hero blackwing fireturbo monarch fisso e le top sono quelle ora durante l'ultimo evento di shuffle deck gaming è stata qualificazione al mondiale non ho visto la top onestamente seppur abbia cassato quindi andate a vedere anche la live in cui commento alcune partite però durante il nazionale sempre bioturbo quello quell'altro e infatti sono stato contentissimo quando è andato in finale sincro cat perché sincro cat obiettivamente non è un mazzo così impattante ma soprattutto cioè è forte sincro cat quello è il bello in edison può vincere Don Salon Ultra yes in edison può vincere tutto come può perdere tutto quello è una regola standard poi ci sono i mazzi che hanno molta più probabilità di vincere come per l'appunto blackwing viturbo e bla 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 fog monarch esiste perché esiste blackwing questa è la verità e magari potreste essere non d'accordo però un po' è così secondo me oddio stavo facendo cadere tutto comunque stavo dicendo effect valer max c e questo spaventa i giocatori moderni oddio ha detto max c ma sei impazzito vanno contestualizzate perché perché come si chiama il max c all'epoca ormai 2011 sono ben 12 anni fa e poi ci troviamo anche bene perché settembre di 12 anni fa è vero che andavi a pescare perché max c rimane ovviamente una carta forte questo nessuno l'ha mai negato e mai nessuno lo negherà però era bilanciata perché bene o male quando le combo erano tipo peschi se te la volete rischiare 3-4 pescate e c'erano ovviamente mazzi che facevano la spam tipo 5-6 evocazioni a turno quello ovviamente non ve lo nego eh perché succede infatti anche per quello che ai giocatori di modern suggerisco almeno di provare eh alcuni di questi eh formati perché se volete la velocità forse il giocatore di modern devo essere sincero potrebbe piacere di più il formato hat il formato tango invece è un po' più incentrato è come se fosse un edison unito a got secondo me di base è quello perché ha la pull di edison estesa con l'arrivo c'è sempre la dash shot purtroppo dico purtroppo quindi la pull di edison estesa con più sincro l'introduzione dei primi Xeed o Xeeds come vogliamo chiamarli che non erano così eh esagerati come effetto e non mi sto riferendo già a Zenmine a Sammolla era più in là con Photon Shockwave ma mi riferisco a Utopia Utopia in italiano il Leviathan Dragon il Roach insomma tutte queste cartine qui che erano forti ma non stravolgevano il meta diciamo in maniera sostanziosa come per esempio un Cosacco Drago nel 2013 il maledetto 2013 ok siamo arrivati al terzo box e io ragazzuoli vorrei provare ad aprirlo in quella maniera figa e se non ci riesco entro 10 secondi non lo faccio più però poi devo conservare le carte dentro quindi no non lo farò quindi ci ho pensato in 5 ok pensavo di aver fatto più casino quindi abbiamo l'ultimo box qui e io da quel punto di vista vorrei sapere cosa ne pensate per l'appunto del 2011 perché ripeto per chi mi conosce sa benissimo che il mio formato preferito non abbia portato così tante dec profile del Tengu Plant e tanti contenuti rispetto appunto a Edison però l'appunto mi sono promesso di farlo anche perché ripeto è il mio formato preferito ovviamente devo rimasticarlo meglio e rispetto a Edison è meno giocato quindi un po' il problema è anche quello e come dicevo il tempo a disposizione che è poco anche perché ci sono i ragazzi di Angeli e Draghi che mi dicono ma vieni più spesso qua però da una parte io sono stanco quindi voglio stare fermo il weekend a volte a volte c'ho impegni personali ovviamente a volte devo registrare per YouTube perché mi sono preso questo impegno a volte c'ho da rapporto ammazza Royal Tribute ne abbiamo trovata solo una mi è parsa? ok però metto da parte ok e si è sempre la questione del lavoro quindi di base con me è la questione stanchezza mindset per il nuovo Yui per quanto riguarda i giocatori vecchi che vogliono tornare al nuovo per quanto diciamo Konami secondo me da una parte è figo che cerca di obiettivamente di attrarre i giocatori vecchi come me con diciamo una rivisitazione delle carte questo è ciotto forse delle carte diciamo vecchiotte come Gazelle ma anche semplicemente il reparto Lyce non l'ho visto c'era il reparto del Crepuscolo che è carinissima come idea eh però sì il gioco infatti è quello qua il gioco è veramente diverso rispetto al passato che ripeto ancora una volta non è per forza una critica negativa è semplicemente un'analisi costruttiva in base diciamo anche al mio punto di vista che ripeto non è un attacco ma semplicemente dire non ce la faccio giocare un po' mentalmente e fisicamente il gioco moderno ha uno stile completamente diverso da quello a cui ero abituato con i vecchi formati in base è semplicemente questo scusate se mi sto rivedendo all'infinito però ci sono persone che purtroppo cercano anche di agganciarsi alla minima cosa e il cazzo dici e gne 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 purtroppo ragazzoni bisogna sottolineare più volte il concetto tant'è che ho avuto una discussione in passato per quanto riguarda il meta del 2013 dove io mi sono lamentato del fatto che secondo me e ripeto anche qui secondo me questa persona qui che sta filmando il 2013 tra quelle che ho giocato quindi fino al 2013-2014 ma anche possiamo considerare gli altri meta come l'echos, burning amis, bla 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 sia stato uno dei periodi più bui in assoluto per il gioco nel senso che era obiettivamente un bimeta con due t0 dove c'erano spellbook e dragon ruler dove dragon ruler però aveva la diciamo era in superiorità rispetto a spellbook seppur siano aggiornati poi entrambi in finale mondiale che però ha vinto dragon ruler con quel cazzo di virus chi so scorda che l'ha distrutto e secondo me in un gioco come Yugi quando cominci a non vedere la varietà secondo me il gioco o il formato in questione è un fallimento perché il bello del gioco secondo me è proprio la possibilità di variare di variare variare le build delle carte quello che rende bello il gioco è vedere tantissimi mazzi diversi ed è per questo che io apprezzo tantissimo l'Edison ma soprattutto il Tenguplant ragazzi è pieno zeppo infatti parlando anche con qualcuno di voi paradossalmente il fatto che sia così tanto ma veramente tanto vario il Tenguplant spaventa e non piace perché sono troppi 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 mazzi io vi garantisco che ce ne saranno almeno una ventina di T1 da considerare così che rispetto ai T1.5 e T2 non c'è così tanto di vario secondo me non c'è tantissimo di vario ed è un meta obiettivamente molto skilled perché visto che c'è così tanta varietà all'interno del meta bisogna stare veramente attenti a come build il mazzo e soprattutto il side deck perché non sai mai che cavolo puoi trovarti contro obiettivamente come vi accennavo prima la gente ha paura che arrivi il Tenguplant o il Legend ma fidatevi che giocando vi potete accorgere dei punti devoli di entrambi i mazzi perché il Tenguplant ha preso vantaggio cioè vantaggio diciamo Tenguplant è diventato forte grazie a Billy Brake è Billy Brake che è il mio player preferito è stato il mio giocatore preferito diciamo pro player di Yugi dell'epoca preferito era un ottimo giocatore e ha creato quel mazzo di base quando ti trovi sto mistone contro cioè la gente ti trova sto mistone diciamo ma che è sto mazzo tu come sildi come giochi e mi è successa Edison con Drago cioè Drago obiettivamente è uno dei mazzi anche conosciuti all'interno del meta ma avendo fatto il Wind & Matt il Reaper figo avendo fatto il Wind & Matt eravamo quante? 18 persone circa e la gente non sapeva cosa fosse Drago what? what? che quindi capite anche lì la cosa è un po' il concetto cioè c'è sempre il fattore sorpresa che è quello che vi fa vincere secondo me le partite quando cominciate a giocare carte che sono inaspettate da giocare di main la gente giustamente la gente giustamente comincia a non potervi prevedere può prendere ovviamente in considerazione il fatto che tu abbia delle trappole delle magie settate o un asso nella maglia però determinate carte sono difficili da leggere e una delle carte in questione secondo me almeno per il torno è stata Trapstan Trapstan non se l'aspettava nessuno si aspettava da giocarsi di main e in Drango è una carta veramente forte quindi ragazzoli anche una cosa che ho notato che in passato sempre nel famoso 2013 che la community in quel periodo io me la ricordo già un pochino più tossichella ovviamente generalmente parlando che se non giocavi la build come faceva uh 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 belle se non giocavi ehm la build come faceva Patrick Hoban di turno che era sempre nominato questo cazzo di Patrick Hoban e non ho nulla contro di lui ovviamente ma lo nominavo solo perché era lui allora tipo il tuo mazzo faceva schifo e mi ricordo che c'era questo ragazzo che era anche un ex youtuber non credo faccia più video ma spero di sì ciao Yungus si bellissimo Yungus di Kuwait nel caso per chi lo conoscesse tanto tempo fa non mi ricordo quale carta fosse giocasse nello specifico però mi ricordo che la postò sul gruppo di Facebook di Yugi e fu bombardato ah che carta di merda che cazzo fai non capisci niente del gioco ma veramente anche commenti pesanti lui che rispondeva criticando in maniera costruita ma no guarda che funziona per questo questo e questo chi se lo scorda poi letteralmente qualche settimana dopo YCS giocatore di turno mi pare stesso Patrick Hoban gioca quella stessa carta che ha giocato lui genio genio assoluto quindi ragazzi il mio invito per l'appunto è quello di sperimentare soprattutto in un formato del genere e carte una delle carte più sottovalutate anche per me la compulsory il compulsory il dispositivo di salvataggio obbligatorio o d'emergenza come si chiama è una roba OP meno forse un pochettino meno in Edison è fortissimo ma in Tengu plant quella carta lì è devastante perché diciamo il Tengu obiettivamente si incentra un pochettino di più sull'extra deck rispetto a Edison per certi versi ovviamente dipende dal mazzo però diciamo la maggior parte dei mazzi fa affidamento sull'extra deck e quindi lo vai a fregare col compulsory anche perché io vi ricordo che lì 3 ce ne stanno infatti nel formato AT l'hanno limitato perché se così non fosse stato il formato AT penso che tutti i mazzi meno che non giocheremo a giocare al decry ma io avrei fatto ugualmente anche con i royal di main giocherei compulsory a 3 perché appunto ci si basa sull'extra deck qual è il counter dell'extra deck certo in GOAT una carta come compulsory può risultare molto meno efficace quello ve lo dico perché appunto dipende sempre dal formato ed il tipo di gameplay che e mazzi che ci sono all'interno di questo questa è una cosa importante non è che dico a cazzo non lo so non mi viene un esempio concreto ecco mirror force allo stato attuale me la butto lì con tutte le carte che risolvono al cimitero e non a caso è a 3 la mirror force foil se non erro allo stato attuale diventa una carta giallina ma tengo plant edison GOAT mirror force mirror force broken card cioè quanti di noi da piccoli oh forza riflessa io mamma quanti soldi ho speso questo per lo structure deck di maric e due list pack yugi due list pack yugi perché usciva la mirror force ultra io la volevo infatti poi l'ha trovata mio cugino io dopo aver comprato circa in totale penso una ventina di pacchetti non in una volta ma col tempo non l'ho trovata poi arriva lui la spusta mi scende la lacrimuccia per la delusione la rabbia ma non verso mio cugino poverino lui però per il fatto che io avessi speso così un po' di soldi ecco un po' di soldi e non e non si è riuscito a trovare nella carta che appunto cercavo più di tutte e poi per l'appunto lo structure deck di maric che usciva comune quindi avevo più mazzi stavo buildando più mazzi e la volevo e poi all'epoca costicchiavo anche mi pare common la mirror force era abbastanza ricercata ovviamente per ripoperarci del cavolo come noi volevamo le comunazze e una cosa importante secondo me che è tanto di cappello a Konami ora e che secondo me con le sta facendo diciamo delle ristampe da qualche annetto sono azzeccate tranne per l'appunto queste carte qui Konami dato che è ufficializzato Time Wizard dovresti secondo me non è ripeto non è una critica negativa ripeto anzi è un invito e anche perché guadagnereste soldi innanzitutto diciamo ristampare cose del genere ma anche il pack stesso cioè non farebbe schifo ai giocatori di Goot barra Edison ma soprattutto Goot e mi sono scordato l'altra cosa che dovevo dire ecco stavo per dire dov'è la last shot mazza con te l'abbiamo trovata ok mancano un altro po' di pacchetti la metamorfosi non abbiamo ancora trovato chissà che grande che grande numero purtroppo però meglio la last shot ah ecco la cosa che volevo dire che secondo me se arrivasse il Time Wizard su Master Duel svolta svolta totale svolta definitiva semplicemente per il fatto che come si chiama hai l'app ufficiale di Konami ok ok niente hai l'app ufficiale di Konami la gente se vuole il mazzo magari ci investe anche dei soldi e io onestamente lo farei volentieri per spacchettare per spacchettare online sono gli ultimi pacchetti quindi cominciano ad andare un po' più piano comincierei a spacchettare e oddio ho difficoltato ad aprire qua o no niente la tartarughina però ci manca l'ultra non mi ricordo se abbiamo trovato l'altro box oddio dovevo contarle perché si ci sta bene o male un numero preciso di carte che si trovano all'interno dei dei box quindi di base ragazzuoli se Master Duel facesse una cosa del genere quindi Konami facesse una cosa del genere penso che ci guadagnerebbe e basta ed è a mio parere personale ma secondo me è stracondiviso dalla maggior parte di voi perché obiettivamente io ci voglio giocare a Master Duel solo che il gioco moderno è troppo veloce per i miei gusti e ci ho giocato tanto ho fatto il platino velocemente poi ho detto no non mi piace ho giocato a Thunder Dragon per l'esattezza col Colossus bello il Colossus bella carta ma oh questa volevo in realtà volevo la trovarne almeno due perché volevo la terza volevo il 3x però ci accontentiamo ok quindi mancano quattro no cinque bravo quindi Dash Shot ne abbiamo trovato un pochettino eh sì questo video sta venendo molto lungo ma da una parte sono contento che oh oh metamorfosi mamma mia metamorfosi Dash Shot sarebbe stato la Wombo Combo il Gold Pack che poi ragazzoli ancora devo caricarvi l'unboxing dell'altro box di Pharaonic Guardian ora che ci penso perché io ne avevo comprati due all'epoca quindi ne ho cinque aperti cinque in totale compresi questi ovviamente e non l'ho ancora aperto porca miseria li devo caricare ed editare probabilmente e questo video è molto molto lungo però voglio fare un po' su questo esperimento vedere se un video lungo diciamo in cui parlo un po' del più e del meno possa piacere o meno e piccolo esperimento per l'appunto come vi dice io sto investendo tanto qui su YouTube sia ovviamente lo faccio per passione perché se non c'è quella io non faccio nulla sappiate questo se non mi piace una cosa è difficile che la faccia quindi la faccio per me la passione però non ho mai negato che caso che dovesse evolversi la cosa io ho la possibilità di farla evolvere con il mio impegno personale oh quello di prima devo andare a vedere assolutamente per capire che cacchio è che magari si può ripetere una carta utile o una carta molto molto spicy oddio sento l'ambulanza in sottofondo 2.000 anni later scusate mi sta morire la gole tutto questo tempo che ho parlato ok ci risiamo ok quindi abbiamo capa zaurs poi è bello che mi interrompo subito perché non mi ricordo i nomi delle carte questa è forte in ad cioè ah un'altra questione che mi avete chiesto in tanti prima di aprire l'ultimo pacchettino le carte coreane possono essere giocate? sì e no bello che ho fatto così sì e no nel senso che konami quindi konami se andate a YCS a proposito poi ve ne parlo konami non permette l'utilizzo ai suoi eventi delle carte o cg caso che siate in tcg però sdg sdg ossia shuffle deck gaming con cui sono in affiliazione quando organizza tornei permette assolutamente l'utilizzo delle carte o cg e in coreano di conseguenza quindi e anche per quello il motivo per cui carte come per l'appunto dash o qualsiasi altra coreana è vero che vale meno della versione tcg nel nostro sul nostro mercato ma diciamo aumenta sempre di a un certo valore soprattutto se non è stata ristampata come queste due nello specifico quindi assicuratevi anche di aver scritto il numero di copie che vi aspettate da a tutto il box compreso l'ultimo pack che abbiamo ad aprire ora però era giusto per risolvervi questo dubbio quindi si di base potete giocare le carte ocg nel caso di tornei di sdg con cui sono affidati e che andremo ad organizzare poi in futuro anche se diciamo quelli che coinvolgeranno me saranno prettamente più online ma ciò non significa che non potrei essere presente a quelli fisici vediamo un po' no speravo in un'altra dash shot io per sicurezza tasto per vedere se ho aperto tutto mi pare di sì ok non c'è niente quindi ragazzoli andiamo a fare un break up abbastanza veloce delle carte che abbiamo trovato oddio penso di aver visto la seconda necrovalle ma ho flashato tantissimo quindi con delicatezza le prendiamo tutte queste le vediamo per ultime quindi abbiamo uno di questi uno di questi io non ricordo mai i nomi abbiamo il ring destruction un'altra volta ne abbiamo trovati due porca miseria che botta di fortuna per non dire altro assurdo che mi scordo i nomi sempre di queste due assurdo la microvalle lo spirito qui potrei certo andare più a destra scusate che sto allungando tantissimo il brodo però sono veramente in difficoltà quindi questa qui qui voi non li mischiate l'altro riper l'altro questi la pistola gialla il super liquidator lo dobbiamo chiamare questo è il golem di lava e la spinge poi abbiamo cinque metamorfosi che parolassalmente ci è andato male nel senso che l'altro box solo in uno ne ho trovati quattro detto tutto quindi ci è andato un maluccio abbiamo quindi cinque metamorfosi e vediamo le trappole botola se riesco riuscissi a prenderle venire qui abbiamo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci e undici ben undici dazio che ripeto metterò probabilmente in vendita sullo store per recuperare un po' diciamo il valore del box ovviamente come vedete sono near mint ora a fine video andrò a imbustarle una una per una e cosa importante vi devo dire si riguardo lo store la questione di prima è che avevo due account uno a uso personale uno a per youtube però giustamente era scritto io non l'avevo letto anche la prima cosa scritta non si possono avere due account quindi il tempo di concludere le ultime trattative sull'altro account e spostarle quindi sull'altro account e di conseguenza vorrei cercare di rinominare il mio account quello personale almeno con il nome di di youtube così che ve lo posso mettere qui sotto in descrizione ma allo stesso tempo metterlo magari sul banner di youtube però ripeto non posso farlo finché card market magari non risolve quella questione in merito alle carte coreane perché le avevo caricate altre carte coreane alcune le ho vendute per fortuna ma alcune mi sono state rimosse perché segnalate come non valide nel senso che c'è una parte della sezione PGD che però dava solo inglese e io nonostante avessi messo anche in descrizione come fanno molti non capisco perché solo a me ad alcuni l'abbiano tolto e ad altri no coreane non inglesi e ovviamente per assicurarmi della cosa all'acquisto gli dicevo e mandavo le foto dicio guarda le carte sono in coreano va bene lo stesso ecco una volta che mi ricevevo la conferma a quel punto inviavo inviavo il prodotto altrimenti mai mi permetterei perché sono una persona molto molto onesta e soprattutto diciamo direttamente se metto in ci metto la faccia col mio nome sopra con le vendite è ovvio che voglio farci anche come minimo una bella figura anzi si ritorcerebbe tutto contro se facessi così male sbaglio concordate ok quindi ragazzuoli io vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale se vi piacciono questo tipo di contenuti e spero commentiate anche in risposta a quanto dicevo nel video è vero che mi sono prolungato tantissimo dato che dura quasi un'ora anzi si può dire un'ora questo questo video vi ricordo di lasciare sempre un mi piace un commento iscrivetevi al canale ed è molto importante soprattutto il commento il mi piace dato che farlo diciamo aumenta la visibilità del mio canale su youtube quindi fatelo per favore ovviamente se vi va non vi voglio obbligare però mi fareste un grandissimo favore e fidatevi che non sono quel tipo di persone che dice ok mi fate il favore ciao e no è per questo che diciamo mi impegno anche tanto per la per la community voglio dare qualcosa non mi aspetto ovviamente nulla in cambio quello assolutamente no però ci tengo a far sì che sia un bel luogo in cui in cui stare quindi grazie però aver visualizzato il video fino a questo punto vi ricordo sempre dei codici sconto il link per acquistare il box eccetera eccetera che trovate qui sotto in descrizione andatevi a vedere gli altri video caso che interesse di qualche box ma siete decisi cosa comprare perché le rarità vi ricordo sono diverse dal cg e tcg però soprattutto per il box gx e arrivederci e al prossimo video see you next time ciao